Allora, visto che nello scorso video abbiamo imparato a portare la macchina, almeno diciamo, vabbè, imparato un pochino, diciamo che non abbiamo scassato troppe macchine, abbiamo rotto solo una macchina, quindi io la prendo come una vittoria. In questo video, come ho detto nello scorso video, visto che abbiamo già fatto la macchina, che poi rifaremo perché dobbiamo migliorare, però dobbiamo imparare a portare la moto, perché se porti la moto poi sai portare anche la macchina. Questo non è vero assolutamente, però il casco mi dà fastidio, vabbè, no, si mette il casco, si mette il casco sempre, pur su una bicicletta, pur su un monopattino, si mette sempre. Metti caso che cadi in terra, ti spacca la capa e poi che succede? Allora, con la moto dovrebbe essere più facile guidare e non andare a sbattere contro la macchina. Poi magari è il contrario, però io ci provo, noi andiamo piano piano così, ok, c'è il semaforo rosso, io giustamente posso superare, signore zitte perché mi riconcentrate, poi faccio un incidente, è un casino. Io da lontano non ci vedo, bisogna gli occhialo, perché il mio personaggio ha il casco in capo e non vedo niente, però è ancora rosso. Signore? Non c'è il semaforo, ah perché è parcheggiato, sono un stupido. Andiamo! Hai zatta di ruota! Guarda come sono bravo a portare la moto! Semmaforo rosso, vabbè! Allora, ok, mi sono lasciato prendere la mano, non so perché, non so cosa me ne sia preso, però adesso, che è piano, eh? Bene, incominciamo ad essere civili di nuovo, c'è il semaforo rosso, quindi noi ci fermiamo, piano piano, vicino al signore, ecco qua. A proposito di scuola qui, passa la strada, muoviti, ops, e mi è scappato proiettile. Oh, oh, ma guarda, che incivili attraversare il brucoloccoso rosso, ma che incivili, guarda, mamma mia. Signora, hai visto, signora morta alla terra, hai visto che incivili che sono queste persone? Ma io non capisco, va. Oh, nonostante questo, il semaforo ancora non deve farsi verde. E ti muovi? E dai, oh, grazie. Allora, dove posso andare? Vado, ho diritto, che diritto sembra, non è esserci nessun semaforo, io posso girare tranquillamente, tranquillo. Allora, stavo dicendo, woppa, stavo dicendo, oggi sono alla scuola guida e vi dico, scuola guida è una palla, per chi non c'è mai andato, è una palla assurda, dottore di coglioni, barona. Cioè, la scuola rompe le palle, no, perché la scuola guida ancora di più, perché non è che tieni il banchetto davanti, almeno io, non c'ho il banchetto davanti. Devo stare seduto e basta. E punto, devi fare... Ragazzi, sto migliorando in un modo incredibile, sto migliorando in un modo incredibile, mamma mia, che bestia che sto a guidare, guarda, guarda, guarda. Cioè, se guido così, nella vita reale, prendo una multa. Però, comunque, l'esaminatore dice, ma sei proprio un mostro, lasciando il fatto che sto trascurando qualsiasi semaforo esistente nella vita, quindi adesso non lo... la devo fare per forza, perché ho andato in Giappone e sono andato, però il prossimo non lo scarto. Mi fermo, piano, piano, piano. Buongiorno, signore. Oh, cazzo! Tu non hai visto niente, ok? Allora, allora, io faccio schifo a guida, no? Ma sì, sì... Oh, ma adesso faccio Valentinos, ma che minchia me ne frega a me di imparare, va? Guarda qua che... Guarda che drift... Guarda che bello, guarda che bello. Guarda, guarda. Guarda, faccio un tripli, sixty, twenty-two, slicks. Guarda... Ciao, signore. Giorno. Come ti chiami? Io mi chiamo Franklin. Come sei bella. Puoi passare il telefono da mano che ti sto parlando, per favore. Eh, per favore! Non ci capisce niente, questa stupida. Allora, io sto alla motocicletta. Perciò alla motocicletta. No, sta là. Scusatemi. Scusate per il traffico, non l'ho fatta apposta. La mia moto è scivolata da tutto. È un casino, eh, scusate. La signora, non avete visto niente? La signora è svenuta, non ho fatto niente. Io la volevo soccorrere con... Con la mia... Ok, sto zitto, basta. Non dico più niente. Ah! Oh! Wow! Oh, cazzo... No! Vai, c'ho anche la polizia alle calcagna. Vedi, quando c'è la polizia alle calcagna, c'è una possibilità che puoi guidare meglio! Scusa, signora, porto la spesa dell'ospedale. Dopo... Guarda qui, guarda. Guarda qui. La polizia ha fatto contromano, non va. Non va, non va bene. Non va bene, però. Criminali. Cioè, voi dovete stare a essere quelli là. Che... Mamma mia! Oh! Ne la sono cavata. Sono promosso, ragazzi. Con la moto siamo promossi. Non è vero. Ehm... Moto, moto... Ehm... Scusami! Oh, cazzo! Ho sbagliato fucile! Eh... Capita, può succedere. Allora... Non è andato come mi aspettavo. Ho fatto una brutta fine. E secondo me trovare una moto adesso... Sarà una cosa molto complicata. Mmm... Io mi metterei qua. All'aspettare. Moto? Ci sta una moto? Non c'è niente. Boh. Cioè, così. Ciao, signore. Io sto aspettando una moto. Sto aspettando qua che passa. No, no. Sto qua. E non mi muovo. Eh, sto aspettando una moto. Che cacchio faccio? Mi muovo. Poi se passa che faccio? Eh, eh. Sto ancora qua. Ma vai via! Eh, eh. Che cazzo... Ehm... Bello. No, no. Non hai capito niente. Non hai capito niente. Allora sta? Allora sta? Dove sta? Non hai capito niente? Non hai capito. Non hai capito niente nella vita. Non hai capito. Bag... No, dove cacchio sta? Dove sta? Qual è la macchina? E questa? La rossa? La rossa? Ma io sto sparando a quello. Ma che minchia fai così veloce? Ma vai che che... Scusate mo. Avete visto? Eh, bella. Non si fa, eh. Oh. Non si fuma. Non si beve. Però non riesco a prendere le persone. Sono stupido. Non si beve. Vieni qua. Vieni qua. Non si beve. Non si beve. Non si siede in mezzo alla strada. Non si fa i cretini. Non si corre. Non si corre. Non... Non si fa quello che stai facendo. E non si fa. E non si fa. Eh, ma siete proprio degli... Uncivi. Ma volete buttare? Perché mi buttare sempre sotto? Io non capisco, boh. Oh, raga. Facciamo una cosa. Prendiamoci una macchina della polizia. E poi se troviamo una moto, la prendiamo. Se non troviamo una moto, non la prendiamo. Però siamo riusciti comunque a sapere che siamo in grado di guidare... Oh, l'ho trovata! L'ho trovata! L'ho trovata! Però sta tipo tutta la polizia addosso a me. Ma va bene. Io ho la moto adesso. Devo scappare. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ci sono uscito. Ci sono uscito. Questa dovrebbe essere molto più bella da guidare che dalla polizia! Mi arrendo. Mi arrendo. Ah, chitebbi. Mi arrendo. Mi arrendo. Mi arrendo. Non ho sparato. Mi arrendo. Mi arrendo. Cretini di merdo. Vai, vai, vai. Scappa, scappa via. Sta cosa davanti mi dà a fassidire un mondo incredibile. Figurati se c'avevo il casco in testa. Cioè, non vedevo niente oscuro. Vedevo. Poi è notte pure. Stavo a posto. Hai. Semina la polizia. Potrei usare il trucco. Ma non sarebbe divertente. È giusto. Sì, è giusto.